E' durata poco più di un'ora la testimonianza dell'avvocato di Alberto Sarra nel processo gota in corso nell'aula Buccheri di Reggio Calabria. L'ex assessore regionale alle riforme della giunta regionale guidata dall'allora presidente Giuseppe Scopelliti, mentre rispondeva alle domande del procuratore aggiunto della DDA Giuseppe Lombardo, ha accusato un malore tanto da indurre, la presidenta del collegio Silvia Capone, a chiedere l'intervento di un medico. L'udienza, dopo la visita di un sanitario, è stata rinviata al prossimo 25 marzo. Alberto Sarra è cardiopatico e ha subito qualche anno addietro un delicato intervento cardiochirurgico a cuore aperto all'orta. Il processo gota, diviso in due tronconi, è scaturito dalla rionificazione di cinque diverse inchieste, Mamma Santissima, Sistema Reggio, Fata Morgana e Alchemia, coordinate dalla procura distrettuale di Reggio Calabria, rappresentata in debattimento dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dai sostituti Stefano Mussolino e Walter Regnazzitto. Con il rito abbreviato, approdato già nella fase d'appello, 34 persone sono già state condannate e quattro assolte dal gruppo Pasquale Laganà, la condanna più alta, 20 anni di reclusione, è stata inflitta all'avvocato Giorgio De Stefano, indicato come uno dei capi dell'omonima Cosca.